ciao benvenuto in un nuovo tutorial di biaggio andonacci se io se lei un bellissimo brano vediamo l'intro che fa ti ricordo se sei nuovo di iscriverti al canale cliccando sulla campanellina e visita nella descrizione il sito giambierobruno.it con tutti i corsi completi di ritmica armonia classica bossa improvvisazione vediamo subito il brano allora la strofa fa si minore io ho pensato di prenderlo così vedi quinta corda secondo tasto quarta a vuoto terza secondo tasto sol re maggiore e la maggiore in dualmente arpeggiando fa di sis minore maggiore se non sol re maggiore la maggiore qua la diesis si minore sol maggiore fa diesis 7 fa diesis 7 vedi il pop occorre un arrangiamento molto diciamo prende degli accordi essenziali mi minore la7 re maggiore si minore faccio sentire sempre il re per esempio sono contento dovresti dopo oltre due trecento video dovresti saper ritmare ti invito a vedere nella descrizione la playlist sulla ritmica e tutto il corso poi abbiamo una solo e torna da capo e poi conclude come l'indro termina in fa un accordo inaspettato quindi mi minore la settima 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 quarta la settima quarta re maggiore e fa io ti ringrazio per essere stato con me ci sentiamo al prossimo video ciao 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 ciao